Nel secondo anno del regno di Dario, durante l'ottavo mese, abbiamo già detto quindi ottobre-novembre, il Signore parlò al profeta Zaccaria, figlio di Barachia e nipote di Ido, gli ordinò di riferire agli israeliti queste parole. Guardate che è un messaggio fatto in linguaggio prettamente. Lo leggiamo e poi voi mi dite cosa vuol dire. Io il Signore dell'universo mi sono veramente adirato con i vostri antenati, ma voi ritornate a me e io ritornerò a voi. Questo non rientra in quello che vi ho detto prima, cioè di tirar fuori il succo, quello era tutto il messaggio. Questa frase però mi preme in particolare, perché qui è espressa in modo proprio chiaro quella che è la convinzione anche degli ebrei, di tutti i popoli antichi, compresi gli ebrei, e siamo a 500 anni prima di Cristo e ancora quella, è quella compresione che gli ebrei hanno del rapporto Dio-popolo dopo che il popolo tradisce, quando il popolo pecca. Cioè il ruolo del peccato nei rapporti dell'uomo con Dio. Qui l'affermazione è chiara. I vostri antenati hanno tradito l'alleanza, io mi sono arrabbiato e me ne sono andato, mi sono voltato dall'altra parte. Poi, lui dice, voi attenti a quel che fate, perché se fate come loro, io faccio con voi quello che ho fatto con loro. Ma se voi invece vi comportate in modo diverso, se voi ritornate a me, io ritornerò a voi. Quindi, cioè il peccato dell'uomo allontana Dio dall'uomo che si volta dall'altra parte, il pentimento dell'uomo spinge Dio, spinge il cuore di Dio a riaccettare l'uomo e lo spinge pian piano a voltarsi verso l'uomo. Quindi il perdono è qualcosa da meritare. Non è garantito dopo che arrivi, però se non lo meriti non se ne parla proprio. Se vuoi che Dio torni a guardarti con una simpatia, con amore, devi fare la tua parte, altrimenti ha ASF e non ci piove. E questo è stato vero per tutti fino a 2000 anni fa. Chi ha cambiato le carte in tavolo è stato Gesù. Il quale, oltre che annunciarlo, l'ha fatto, ma ha dimostrato e ci ha aiutato a capire che quando noi tradiamo il rapporto con Dio, non è Dio che ci volta dall'altra parte, siamo noi che ci voltiamo dall'altra parte. Lui resta lì. Mentre eravamo peccatori, Cristo è morto per gli empi. Questa è la prova che Dio ci ama. Cristo non ha detto anche ai suoi discepoli, prima cambiate, prima pentitevi, prima meritatevi il perdono e poi io. E sto a lui e a cura di lei. Quindi siamo noi che ci voltiamo dall'altra parte, non Dio. E il pentimento serve a noi per tornare a voltarsi verso di Lui. Perché il perdono non occorre neanche meritarlo. È già dato. È già garantito. Quello che il nostro pentimento fa cosa è? Ditemelo voi. Qual è il ruolo del nostro pentimento? Accettare. E quindi? Permettersi di non buttare via quello che Lui ci regala. Il massimo che possiamo fare è questo. Ma questo lo dice la scrittura, lo dice il Vangelo, lo dicono le lettere di Paolo. Lasciatevi riconciliare con Dio. Non è meritatevi la riconciliazione con Dio. Rendite possibile la riconciliazione con Dio. Non è lasciatevi riconciliare. Lui l'è lì e l'ha già bella fatta e vuol darlo anche a te. Permettersi di non buttare via quello che Lui ha fatto. Ma noi sappiamo, per esperienza personale, chi più chi meno, in base anche all'età che abbiamo, penso, che nella nostra predicazione, nel modo di far catechismo, qual è l'idea che passava, che è passata per secoli? L'ultima o la prima? Quella che c'è scritta? Esatto. Quella dell'Antico Testamento è passata. Perché? Perché la paura di molti predicatori è che se io gli dico che sono già perdonati, e lui gli dico che sono già perdonati, e gli dico che sono già perdonati, e gli dico che sono già perdonati. Cosa è che si dimentica in questo caso? Che il perdono, il perdono che Cristo ci ha già meritato, lui ha meritato per tutti, è reale, ma perdona noi, ma non è nostro. Diventa qualcosa di nostro quando? Quando io mi apro e gli permetto di entrare, di perdonarmi davvero. Per cui il perdono è un'opportunità che lui ci mette davanti al naso, e non può andare dentro più di tanto, senza il nostro permesso, perché si tratterebbe da bambocci, o peggio ancora da burattini. E ma fare sfacche che noi ho lì? E Dio questo non lo vuole fare. Perché se questo ci entra dentro, per me è uno degli effetti molto belli della lettura della parola di Dio, dell'accostamento personale alla parola. Il percepire questo regalo enorme che lui ci mette in mano, è anche però che richiama la nostra responsabilità. Non toglie niente a noi rispetto al da farsi. Certo non dobbiamo meritarlo, non dobbiamo usciare sette camicie per essere perdonati, ma per accogliere il perdono e vivere da perdonati, è il chelto conotere. Quella è la risposta nostra, e lui non può nel senso che non vuole farlo per noi. Non vuole farlo. Perché? Perché si rispetta come persone che hanno una dignità. Chiaro questo? Lo prometto io il Signore dell'Universo. Grazie. 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 Grazie.